Il vostro primo volo. I jet che avrete contro sono piccoli, manovrabili e veloci, esattamente come i MIG nemici. Possiamo cominciare? Da questo momento avverrà l'assegnazione del punteggio. L'ho perso, Gus! Fammi vedere quello che sai fare! L'ho perso! Lo sto cercando, lo sto cercando! Ecco, non ce l'abbiamo di coda, si avvicina velocemente! L'ho visto! Via! Bene, dimmi, Gus, è ancora dietro! Ti stavo avvicinando! Sei veloce, ragazzo, ma non puoi nasconderti! Forza, Jess, facci vedere quello che sai fare! Attenzione, montagne! Lo vedo, è ancora qui dietro! Forza, Mar! Datti da fare! D'accordo, lo vedo! Forza, mettiti bene! Gus, non ho abbastanza di questa stronzata! Rallento e mi faccio superare! Bene, sei mio! Cristo! Ora vediamo quello che fai tu, Chester! Dai, amico, facciamolo secco! Sta salendo in verticale, vado anch'io! Dai, come un proiettile! Vuole raggiungere la quota minima! Scendiamo per primi e facciamolo fuori! No, caro Chester, sei mio! Ora ti ho preso! Chester è morto! Yahoo! Chester è morto! Portate le chiappe all'altitudine autorizzata e tornate immediatamente alla base! Sì, signore! Torre, qui Ghost Rider chiede autorizzazione a volo radente! Negativo, Ghost Rider, il corridoio è pieno! No, no, ma non credo sia una buona idea! Mi dispiace, Ghost, ma farò la barba alla torre! Sto benedetto bastardo! Ia-ha! Fantastico, Mav! Ha!